Musica In questa edizione del DNews, Confindustria e Sindacati lanciano l'ultimatum al governo Crocetta e all'Ars. Intanto domani l'UGL è in piazza contro il governo Crocetta. L'ondata di sbarchi in Sicilia ha subito un rallentamento. In poco meno di 48 ore sono arrivati 97 extracomunitari, un numero inferiore rispetto alle migliaia contate nelle ultime settimane. Abbattuti 5 edifici abusivi nel villaggio azzurro alla foce del Simeto, un segnale di legalità molto forte, ha commentato il sindaco Enzo Bianco. Sono 218 le imprese che hanno chiesto di insediarsi nel rione Librino nell'ambito delle zone franche urbane. Il ministero sta esaminando le pratiche ma i fondi disponibili sono inferiori a quelli previsti. Inaugurato stamane il centro di urno per il progetto Alzheimer nella sede dell'Opera Pia Monsignor Ventimiglia di Catania. Sansar tappeti persiani lungo mare Catania, valori che il tempo non cambia. Favole, mille favole Magiche, tutte magiche Ti sapranno conquistare, andiamo a cominciare Principesse, fate draghi Cavalieri, mostri e maghi Salta sul trenino della fantasia Chiudi gli occhi insieme a noi Vola via, mille chiave per sognare Mondo Ragazzi, abbigliamento e accessori da 0 a 3 anni Ti regala 100 euro in buoni acquisto Promozione riservata a tutti i bambini nati nel 2013 e 2014 Mondo Ragazzi, nati con la camicia A Catania, in via Pola 19 Partirà domani mattina alle 9 da Piazza Marina la manifestazione generale multisettoriale contro l'improvvisazione del governo Crocetta Il corteo arriverà sino a Palazzo d'Orleanza, sede della Presidenza della Regione Chiediamo al governatore Crocetta di fare un passo indietro Che i siciliani apprezzerebbero moltissimo Afferma Giuseppe Monaco, segretario generale della UGL Sicilia Diversamente faccia conoscere lavoratori siciliani A quelli della formazione professionale Ai forestali, ai dipendenti dei call center A quelli dell'ESA, della Reisais Ai precari dei comuni, ai siciliani in generale Qual è l'ipotesi di sviluppo che vede per l'isola? E intanto l'ultimatum al governatore siciliano Rosario Crocetta E a tutto il Parlamento regionale siciliano Arriva anche dagli industriali e dai sindacati confederali siciliani Riuniti al forum sulla politica economica regionale Organizzato dal centro Piola Torre a Palermo A farsi portavoce dell'ultimatum È il presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante Che ribadisce più volte di avere condiviso pienamente L'ultimatum lanciato giorni fa dal Delfino di Renzi in Sicilia Davide Faraone Il responsabile welfare e lavoro del PD Faraone Aveva chiesto al governo Crocetta e al Parlamento Di fare le riforme entro dieci giorni O si torna al voto Condivido pienamente quanto detto Dice Montante Non lo cito a caso perché rappresenta il premier Matteo Renzi Lui fa politica, noi no Certo il limite di dieci giorni era una provocazione Ma un segnale importante A chi chiede a Montante se c'è un tempo di limite Oltre il quale non si può andare Il presidente dell'industriale replica Presto ci vedremo con i rappresentanti confederali Tutti e decideremo una linea guida da seguire Industriali e sindacati hanno intenzione di presentare un documento al governo nazionale I sindacati e le associazioni datoriali come noi la pensano allo stesso modo Dice Montante Bisogna solo decidere come agire Intanto i sindacati sono anche contrari al commissariamento Soprattutto Claudio Barone della Will Sarebbe una tragedia E Maurizio Bernava della Cisle aggiunge Ma non possiamo stare neppure fermi Vertice questa mattina all'assemblea regionale siciliana Tra i sindacati interni e il capo del collegio dei questori Paolo Ruggirello Per discutere ancora degli stipendi d'oro Dei dirigenti di Palazzo dei Normanni Dopo il pressing del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta Che fissa la soglia massima di stipendio Per i dirigenti In 160.000 euro lordi Secondo indiscrezioni Oggi i sindacati hanno proposto al collegio dei questori Una sorta di dossier sugli sprechi di Palazzo dei Normanni Proponendo una serie di tagli Dalle auto blu per il consiglio di presidenza Ai consulenti esterni Fino alle spese per il cerimoniale I sindacati interni dell'Arsa infine pare Abbiano trattato per limitare i tagli Ai dirigenti più remunerati Dinanzi al perdurare dello stato di spascio E confusione della formazione professionale siciliana E all'incertezza delle sue prospettive future E' necessario che il presidente Ardizzone costituisca Con immediatezza la commissione di indagine, studio e indirizzo Sulla formazione professionale in Sicilia Per poter tracciare delle linee chiare e indirizzi certi Sul futuro del settore professionale E quindi sulle prospettive di 8.000 lavoratori Che ogni giorno vedono affievolire Le proprie speranze di stabilità lavorativa Così si è espresso il capogruppo di Forza Italia Lars Onorevole Marco Falcone Promotore della mozione per l'istituzione Di una commissione speciale sulla formazione professionale Credo che trascorsa la campagna elettorale Il governo regionale debba farsi carico Dei gravissimi problemi che in questo momento Affliggono la Sicilia Non ultimo quello della formazione professionale Ha sostenuto Marco Falcone Che oltre a garantire migliaia di posti di lavoro Diviene strumento necessario Per professionalizzare il mercato del lavoro siciliano Non sempre all'altezza delle esigenze attuali Obiettivo della commissione Ha concluso il capogruppo forzista E' quello di porre finalmente un punto A tutto ciò che è successo sino ad oggi E dare una svolta ad un settore Che deve essere strategico Anche per lo sviluppo dell'isola E' morta questa mattina La piccola Rita La bimba siciliana con malattia di Nieman-Pic Per la quale la settimana scorsa Il tribunale di Ragusa Aveva disposto la ripresa delle infusioni di staminali Preparate secondo il metodo stamina La piccola di Modica Era fra i 34 pazienti Presi in carico dagli spedali civici di Brescia Dopo aver ottenuto da una precedente ordinanza Il via libera alle infusioni I suoi intensi occhioni neri Adesso brilleranno intensi più che mai da lassù E la frase con cui sulla pagina Facebook Dedicata alla bimba Viene data la notizia del decesso Nell'ordinanza il giudice ragusano Chiamava direttamente in causa Il direttore generale dei civili Enzo Belleri Ordinando al manager di verificare Ancora una volta la presenza di medici Disponibili a praticare le infusioni All'interno dell'ospedale In caso di esito negativo Lo stesso Belleri Avrebbe avuto 5 giorni di tempo Per trovare medici esterni Disposti alla somministrazione Avviando una ricerca a tappeto Fra strutture sanitarie pubbliche Ordini professionali E denti di ricerca Avranno inciso probabilmente Le condizioni climatiche avverse Di questi giorni Tanto che pare abbia subito un freno L'ondata di sbarchi in Sicilia Infatti dopo gli oltre 3.500 migranti Arrivati in poco meno di 48 ore L'unica segnalazione è quella Di 97 extracomunitari Soccorsi a largo del canale di Sicilia Da una motonave maltese Che ha fatto rotta verso Catania Un viaggio verso il porto del capoluogo Etneo Ostacolato da un guass al motore Della motonave Che l'ha bloccata per diverse ore In alto mare Tanto che la nave cargo Con a bordo gli immigrati È riuscita ad approdare Al porto di Catania Intorno alle 2 della scorsa notte Tra loro 19 donne 43 bambini La maggior parte Di nazionalità siriana Con un piccolo gruppo di egiziani I profughi sono stati ospitati Nella struttura comunale del Palaspedini Dove sono in corso Le procedure di identificazione Coordinate dalla questura di Catania E sono approdati ieri Nel porto di Augusta Nel siracusano I circa 1300 migranti Soccorsi in mare E portati in terraferma Dalla motonave Asso 25 I grandi numeri sugli arrivi Hanno fatto scattare Un piano di trasferimento Dei migranti Arrivati nell'isola Che per la maggior parte Sono stati condotti Con voli charter E militari In altre regioni italiane Se rallenta l'ondata di sbarchi Non si arresta invece L'attività investigativa Delle forze dell'ordine Della magistratura Impegnate nell'individuare Equipaggi e organizzatori Dei viaggi Sono sette i presunti Scafisti Fermati in tre diverse operazioni Quattro tulisini Sono accusati Per lo sbarco Di 1300 persone Avvenute ad Augusta Mentre un siriano E un marocchino Sono stati indagati Per avere favorito L'immigrazione clandestina Dei 257 eritrei Arrivati a Porta Empedocle Nella Grigentino Infine un tulisino È stato fermato Per i 266 migranti Sbercati a Pozzallo Nel Ragusano Il vecchio barcone In legno Sul quale erano stipati Ha rischiato di capovolgersi Durante la navigazione Le persone si spostavano In continuazione Ricostruisce un migrante siriano Al quotidiano Il messaggero Provocando movimenti Onduratori del natante Ogni passeggero Adno accertato Gli investigatori Avrebbe pagato Mediamente 1500 dollari Per i trafficanti Il giubbotto salvagente È un optional Da pagare 200 dollari Ciascuno in più Anche per bambini E donne incinte Intanto I militari dell'esercito Impiegati a Lampedusa Nell'ambito dell'operazione Strade Sicure Hanno accolto Nei giorni scorsi 271 immigrati Tra cui 29 donne E 12 bambini Giunti al molo Favarolo A bordo di due Imbarcazioni Della guardia costiera Ed una Della guardia di finanza I migranti Di origine eritrea Si legge sul sito web Dell'esercito Sono stati soccorsi A sud dell'isola Di Lampedusa E sono stati accolti In banchina Dal personale Dell'operazione Strade Sicure Tra i militari Sono presenti Anche i mediatori Culturali Dell'esercito Il compito Di questi ultimi Oltre a quello Di garantire La sicurezza Del centro di soccorso E prima accoglienza E anche quello Di dare assistenza Agli immigrati Il contributo Offerto agli immigrati E ai soccorritori Si è rilevato Spesso indispensabile Per scongiurare Situazioni di pericolo Proseguono i controlli Disposti dal questore Di Catania Salvatore Longo Riguardanti le attività Di somministrazione Di alimenti E bevande Al pubblico Finalizzati All'accertamento Delle condizioni Igenico-sanitarie A verificare La corretta tenuta E la freschezza Degli alimenti Nonché l'osservanza Delle norme contrattuali In materia di assunzione Dei lavoratori Negli esercizi Ed eventuali occupazioni Del solo pubblico Il servizio si è svolto Congiuntamente Al personale Della Polizia Scientifica Dell'ASP3 Del distretto di Catania Unità operativa Di igiene pubblica E unità operativa Di sanità pubblica Veterinaria Dell'INAIL Dell'Ispettorato del lavoro E della Polizia Municipale Nel corso dell'attività Sono state elevate Sanzioni pecuniarie Di 30.000 euro circa E' stato denunciato Ai stati di libertà Alla locale Autorità giudiziaria Il gestore di un locale Ed è stata disposta All'immediata sospensione E chiusura Di un'attività commerciale In particolare I controlli Sono stati operati Nei confronti Del ristorante Pizzeria Fratelli La Bufala Ubicato in via Puccini Non è stata rilevata Alcuna in osservanza Alle norme igienico-sanitarie Alla tenuta degli alimenti E alle assunzioni Dei lavoratori dipendenti Il titolare E' stato però Sanzionato Per violazioni strutturali E mancato rispetto Delle temperature Delle celle frigorifere Gli è stata contestata Inoltre L'occupazione abusiva Del suolo pubblico In quanto sprovvisto Di autorizzazione Apposto sul marciapiede Tavoli e sedie Che impedivano Il normale passaggio pedonale Nel locale Kebab Chicken Spot Alibaba Sito in piazza Giovanni XXIII La titolare E' stata denunciata E' stato di libertà Alla locale Autorità giudiziaria Perché all'interno Del laboratorio cucina In un lavello Sono stati trovati Circa 15 kg Di ali di pollo Risultati non adatti Al consumo umano Per le modalità Assolutamente Non igieniche Con cui venivano tenuti Il pollame E' stato quindi Sequestrato E successivamente distrutto Sono state qui contestate Anche sanzioni Per modifiche strutturali Per precarie condizioni Igenico-sanitarie E promiscuità Di conservazione Di alimenti Sono stati trovati Tubetti di silicone A contatto Con dei prodotti alimentari E' stata rilevata Anche la mancanza Di bagni E spogliatoi Dei lavoratori Per tutto ciò E' in considerazione Che il locale Nonostante avesse In corso Lavori di ristrutturazione Continuasse la preparazione E somministrazione Degli alimenti E' stata disposta All'immediata Sospensione E chiusura Dell'attività Contestualmente Altra sospensione Del locale E' stata disposta Dal personale Dell'ispettorato Del lavoro Per la presenza Di lavoratori Circa il 20% Non in regola Con le norme Di assunzioni Controlli anche Al Moroboshi Sushi Fusion Ubicato in Via Martino Cilestri Dove l'attività Non presentava Alcuna irregolarità Circa le condizioni Igenico-sanitarie La conservazione Degli alimenti E le assunzioni Dipendenti Tuttavia la titolare E' stata sanzionata Per occupazione abusiva Del suolo pubblico Per non aver rispettato I criteri Di sorvegliabilità E per aver Impropriamente Edibito il piano Ammezzato Destinato in origine Al locale di Sgombero Come sala di somministrazione L'attività quindi E' stata subito Sospesa esclusivamente Per il locale Ammezzato Con rimozione Di tavoli e sedie Infine durante le verifiche Al ristorante pizzeria Cutulisci Sito in via San Giovanni Licuti E' stato constatato Che l'attività Era completamente In regola Sotto ogni aspetto Concernente Le condizioni Igenico-sanitarie La conservazione E la lavorazione Dei cibi Nonché per la posizione Dei lavoratori E le proprie dipendenze I carabinieri Del nucleo investigativo Del comando provinciale Di Catania A conclusione Di un'articolata Attività investigativa In viale Castagnola All'interno Di un campo incolto Antistante alla scuola materna Tommaso Campanella Hanno rinvenuto E sequestrato Un mini-arsenale Un fucile a doppietta Quattro fucile a canna unica Un fucile a doppietta A canne mozzate Con la matricola brasa E circa 200 munizioni Di vario calibro Le armi sequestrate Saranno inviate Al reparto Investigazioni scientifiche Di Messina Per gli opportuni accertamenti Che ne stabiliranno L'eventuale utilizzo In episodi criminosi Sono in corso Indagini Per verificare La riconducibilità Delle armi Ad un determinato Gruppo criminale E in distinta operazione I carabinieri Della stazione Di Gravina Di Catania Hanno arrestato In flagranza Un diciottenne Per violazione Di domicilio Minaccia grave E sequestro di persona Il giovane Dopo aver saputo Che la fidanzata Una coetanea Aveva avuto Una relazione Con uno studente Della zona L'ha costretta A salire a bordo Della propria autovettura E a raggiungere L'abitazione Di quest'ultimo Colto da un raptus Di gelosia Ha infranto Il vetro Della porta D'ingresso E introdottosi In casa Ha ingaggiato Una violenta Zuffa Con il rivale I familiari Della vittima Hanno avvertito Il 112 Che ha inviato Immediatamente Sul posto Dei militari Di pattuglia Che dopo Una breve colluttazione Sono riusciti A bloccare Arrestare L'aggressore Scongiurando Ben più gravi Conseguenze L'arrestato È stato trattenuto In camera di sicurezza In attesa Del rito Per direttissima Ruspe a lavoro Questa mattina Nel villaggio azzurro Alla foce Del Simeto Dove Il sindaco Di Catania Enzo Bianco E il procuratore Della Repubblica Giovanni Salvi Hanno presenziato All'abbattimento Di cinque Costruzioni abusive Di consistente Volumetria Edificate All'interno Della zona A dell'Oasi In un'area Di completa Inedificabilità Nel settembre Dello scorso anno Sono state concordate Tra i vertici Della procura E dell'amministrazione 70 demolizioni 50 20 effettuate Dagli stessi proprietari 30 Da mezzi del comune Sono state finora Eseguite E in sinergia Ripristinando I luoghi Come in origine È un segnale Di legalità Detto il sindaco Enzo Bianco Molto forte Abbattendo queste Cinque costruzioni abusive Stavolta Non su provvedimento Della procura Della repubblica Ma del comune Di Catania Sindaco Questa mattina Le ruspe in azione Al villaggio Azzurro Una opera Di legalità Abbattute Cinque costruzioni abusive Sto venendo Esattamente da lì E abbiamo deciso Di fare Ovviamente Quello che Non sto Dovere fare Laddove si costruisce In una condizione Di assoluta Insanabilità Non si possono Che demolire Queste demolizioni Sono state Curate dal comune Altre Dalla procura Della repubblica Ma nello stesso Identico momento Voglio dire Che si è avviato Questo processo Di collaborazione Con gli ordini Professionali Per andare Verso la sanatoria Di ciò che è sanabile E appena avremo Gli incassi Dalla sanatoria Degli immobili sanabili Una parte significativa Di quelle risorse La destiniamo Alle opere Di urbanizzazione Di quei quartieri E di quei villaggi Dove oggi La condizione assoluta Di inviabilità Manca la rete fognare Manca l'illuminazione E li renderemo civili Quindi tolleranza zero Verso l'insanabilità E accelerazione Del processo Di risanamento Alla dove invece Questo è consentito Dalle leggi Per molti Anzi moltissimi Le zone franche urbane Sono occasione Di sviluppo Sia territoriale Che occupazionale Tanto che Ad esempio Solo per il rione Di Librino Sono 218 Le imprese Che hanno chiesto Di insediarsi Con relativi progetti L'intento iniziale Era quello Di ottenere 36 milioni di euro Da investire Ma purtroppo Le risorse disponibili Sono inferiori Circa 18 milioni E mezzo di euro Intanto il ministero Sta esaminando Le pratiche Il ministero Sta valutando Le pratiche Della zona franca urbana Di Librino Come si può Trasformare Quel quartiere Beh Vi rendete conto Se Rispetto alle 100 Mi pare 70 domande Che sono state presentate La maggior parte Hanno le carte regole Siano apposte E' un quartiere Che rinasce 170 150 Quelle che saranno Nuove aziende Piccole e medie Significa posti di lavoro Probabilmente per 500 600 700 800 persone E naturalmente E' vita che viene In quel quartiere E' la cosa più importante Se non c'è vita Da punto di vista economico Quei quartieri Riscono di essere Sempre marginati Però sono state destinate Un po' meno risorse Di quelle attese Sì però Intanto Quelle che ci erano State dette Poi se arriveranno Altre risorse Da parte Naturalmente Della regione O dal ministero Saranno utilizzate Anche quelle E il comune Li sta aiutando Ulteriormente Pensando di mettere A disposizione Delle botteghe Con un prezzo Tra l'altro Di particolarmente Vantaggioso Quindi ci sarà Un doppio vantaggio In ogni caso Nulla di fatto Anche oggi Al consiglio comunale Di Catania Che è riunitosi Ancora una volta Per discutere E approvare Il punto Sui debiti Fuori bilancio Ha visto la seduta Sospesa Dopo un paio d'ore Dal suo inizio Stamane Per mancanza Del numero legale I consiglieri Di opposizione Continuano ad accusare La maggioranza Di assenteismo Ancora una volta La maggioranza È spaccata Non si presenta In aula E grazie Alla responsabilità E alla coerenza Di un'opposizione Che vuole esclusivamente Il bene di questa città Si riescono a votare Questi debiti Fuori bilancio Perché questo assenteismo In aula? Onestamente non so Bisognerebbe chiederlo Ai consiglieri assenti Alcuni sicuramente Con motivazioni valide Altre Altre motivazioni Non le so dire Probabilmente C'è anche Lo spauracchio Di questi debiti Fuori bilancio Che fanno un po' Paura a tutti Perché è bene Ricordarlo Che la responsabilità È in prima persona Di tutti i consiglieri comunali Che rispondono Col proprio patrimonio Quindi c'è anche C'è anche una Forse forma di paura Però ritengo Che la responsabilità Di aver accettato Un ruolo Come quello Del consiglio comunale Impone L'essere presente Anche in momenti Così delicati L'opposizione Anche con interventi in aula Vi ha rimproverato Il troppo assenteismo A voi Della maggioranza E forse qualcuno dice Per paura Di prendervi Troppa responsabilità Di fronte a questi debiti Fuori bilancio Sì In effetti Diciamo che L'opposizione Ha dimostrato Una buona responsabilità Però questo punto Dei debiti fuori bilancio Ha sempre Lasciato Diciamo Delle porte aperte A dei segni In cui Ognuno di noi Ha avuto preoccupazione Perché incide Non conoscendo bene L'aspetto La tematica Quindi si Tenta a starsene fuori Quindi Non tutti Hanno avuto La responsabilità Di stare in aula E' stato inaugurato Stamane Alla presenza Dell'Arcivescovo Metropolita Monsignor Salvatore Cristina Che ha Benedetto i locali Il centro diurno Che ospita Il progetto Alzheimer Finanziato dal comune Con fondi Della legge 328 E che si trova Nella sede Dell'Opera Pia Monsignor Ventimiglia Di via San Vincenzo De Paoli La struttura Va a integrare La rete Ambulatoriale Residenziale E ospedaliera Della città Coprendo quella Semi Residenzialità Fondamentale Per ritardare O addirittura Impedire i processi Di degenerazione Che determinano Il ricovero Permanente Cosa significa Per un territorio Come quello Di Catania E soprattutto Per un ente Come questo L'apertura Di questo centro Alzheimer Per il territorio Come Catania Significa Avere una struttura Che mancava Questa è solo La prima Delle due strutture Che noi Apriremo E significa La possibilità Per le persone Anziane Che hanno problemi Di Alzheimer In una fase Iniziale O intermedia Avere la possibilità Di non essere Espulse Dal proprio Habitas Ambientale Alla propria casa Che è una cosa Che determina Un immediato Peggioramento Della sintomatologia Ma soprattutto Anche una possibilità Per le famiglie Di avere delle strutture Che in qualche maniera Determinano Un sollievo Rispetto all'assistenza Che normalmente Viene Viene Apparta Dai familiari Che si caricano Di un impegno Notevole Sul piano psicologico E che spesso Determina Tra l'altro Negli stessi familiari Problemi anche Di ordine psichico Per l'impegno Notevole Nel corso Della mattinata Alla quale Sono stati presenti Anche Erika Marco Presidente della Commissione Consigliare Servizi Sociali Il commissario Dell'ASP Gaetano Sirna Il direttore Del Dipartimento Salute Mentale Giuseppe Fichera Il commissario Dell'Opera Pia Giampiero Pambini È stato presentato Il protocollo D'intesa Tra il comune Di Catania L'Arcivescovado L'IPAB Monsignor Ventimiglia Come funzionerà Come è strutturato È strutturato È stato inaugurato Oggi Da domani Sarà assolutamente attivo Saranno presenti Dieci anziani Affetti da questa malattia Seguiti da psicologi Da addetti ai lavori Qua avranno Un trattamento Tipo casalingo C'è la stanza Debitacucina Dove loro stessi Possono cucinare Possono convivere Con gli altri Questi momenti Dalle nove del mattino Alle quattro e mezza Del pomeriggio C'è anche alcuni ambienti Che sono predisposti Per farli riposare Quando hanno bisogno E altri Per giochi di società O altre attività Che possono svolgere Nell'occasione Il sindaco di Catania Enzo Bianco Ha commentato Come si stia Concretizzando L'intento di tendere Una mano in più Agli anziani Con l'apertura del centro Che è un po' di più 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 Che è un po' di più